Radio Radicale, chiamo col professore Stefano Ceccanti, costituzionalista, presidente del Comitato per la Legislazione, membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, per parlare con lui delle parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha detto che tra otto mesi vuole riposarsi. Allora, le parole di Mattarella, detto in un contesto diciamo molto informale, la visita in una scuola, hanno provocato una certa ansia nel mondo politico, l'abbiamo avvertita qui in Parlamento perché sappiamo quale sia stato il ruolo del Presidente della Repubblica e quanto sia importante il suo equilibrio in una fase delicata come questa. Professore, adesso che succede? È evidente che il Presidente Mattarella ha un suo particolare angolo visuale di una persona che ritiene di essere al termine il suo mandato e vuole allontanare da sé qualsiasi posi di elezione. Questo è il suo punto di vista che va rispettato. Però il punto di vista del Parlamento può anche non coincidere, questo è il punto, perché se il Parlamento si dovesse trovare in una situazione delicatissima come quella che si trovò nella condizione che portò all'elezione del Presidente Napolitano, anche lui fermamente contrario a essere riletto. Cioè se ci fosse una situazione parlamentare di paralisi, questa situazione non ce la potremmo permettere. Lei si immagina qui bloccati per giorni alla ventesima votazione. Ecco, allora io dico questo, il Parlamento non si deve precludere niente e dobbiamo dire sin d'ora che noi non ci precludiamo niente. Dopodiché se è possibile trovare un'altra soluzione di amplissima condivisione che risparmia al Presidente questa cosa, conciliando i due punti di vista, benissimo, però può anche darsi che i due punti di vista non siano conciliabili e che sia necessario chiedere un sacrificio. Oggi penso che sia sbagliato precludersi questa possibilità. Il Partito Democratico pensa a una richiesta ufficiale al Presidente della Repubblica? No, questo lo deve chiedere. Io faccio una riflessione a freddo di tipo personale che penso possa avere un certo discorso. Che cosa possa fare il Partito Democratico? Non lo so, ovviamente poi il Partito Democratico prenderà le decisioni. I gruppi parlamentari. Ma le decisioni verranno prese a ridosso e quindi a ridosso ci sarà una maggiore consapevolezza della situazione politico parlamentare. Io dico solo che oggi, rispetto a una posizione che oggi Presidente è Presidente della Repubblica, noi abbiamo il dovere di dire la prendiamo sul serio, ma non possiamo precluderci l'idea di chiedere di cambiarla. Certo. Si può dire che c'è sulla carta una maggioranza Ursula che vorrebbe il Presidente per un nuovo mandato? Guardi, io dico questo, che la cosa migliore sarebbe una maggioranza di tutti, senza preclusione per nessuno, sia dalle forze che sono attualmente in maggioranza, sia della forza che è l'opposizione. Quindi non proponiamo schemi politici che abbiano delle esclusioni a prioristiche. Più ampia è la maggioranza che legge il Presidente, meglio è. Che cosa comporterebbe? Cioè, lei ritiene che la fine del mandato di Mattarella determinerebbe anche la fine anticipata della legislatura? Molti hanno fatto questo automatismo dicendo anche che il più, diciamo, interessato a questa cosa è Salvini. Io partirei da un altro punto di vista, che è questo. Lo scadenzario che noi abbiamo fatto per il PNRR è favorito o viceversa pone dei problemi rispetto a una scadenza anticipata della legislatura? Cioè, se qui nel 2022 ci sono 4-5 mesi di Parlamento in prorogazio tra una legislatura e l'altra. Questo aiuta il PNRR oppure no? Secondo me non lo aiuta. Questa è la premessa. Di conseguenza sarebbe coerente con lo scadenzario che ci siamo dati andare a fine legislatura normale 2023. Se noi vogliamo andare a scadenza normale 2023 bisogna trovare una soluzione che consente andare fino al 2023. Quindi c'è una candidatura diversa da Mattarella che potrebbe consentire di arrivare fino al 2023? Questo è il punto. Io penso che ci possiamo ragionare e che valutiamo. Però la logica è rispettare la tempistica del 2023. Certo. Avremo bisogno ancora per molto tempo di draghi al Palazzo Chigi, secondo lei? Secondo me la cosa più normale sarebbe che chi ha iniziato il lavoro a Palazzo Chigi lo prosegue a Palazzo Chigi. Dopodiché, se qualcuno è in grado di creare uno schema politico in cui il Presidente del Consiglio Draghi, divenendo Presidente della Repubblica, ci può essere un governo in continuità con il suo, guidato da un'altra persona, che ci porta a 2023, valutiamo anche questa ipotesi. Però non è che, siccome alcuni leader politici partono dall'idea che a loro convenga, mandare draghi al Quirinale per fare uno scioglimento anticipato al volo nel 2022, noi dobbiamo sentirci vincolati a questa esigenza di parte, che sarebbe legittima l'esigenza di parte. Certo. Lei ha fatto una riflessione ripensando all'ultimo anno di Napolitano se stiamo vivendo una situazione simile? Il problema è questo. Lì il Presidente Napolitano si trovò di fronte a un Parlamento incapace di leggere il successore. Ora, noi non siamo così sicuri... Il Parlamento è appena eletto, poi. Sì, non siamo così sicuri che questo Parlamento, arrivato a gennaio, che pur esprime un governo che governa bene, sia in grado di leggere un Presidente. Noi, per esprimere un governo che governa bene, ci siamo dovuti affidare un'iniziativa del Presidente della Repubblica, che è stata accolta positivamente dal Parlamento. Ma la decisione politica nasce da un'iniziativa presidenziale. Possiamo pensare che a gennaio il Parlamento sia così forte, pur diviso in tanti gruppi piccoli e grandi che riesce a eleggere il Presidente nelle prime votazioni un Presidente di Verza Matera? Lo speriamo, però non possiamo neanche escludere il caso posto. Certo. Oggi qui in Commissione Affari Costituzionali vi state occupando di una proposta di legge sul voto dei non residenti, però sono necessarie un sacco di altre riforme ben più importanti. Il semestre bianco sarà il periodo più giusto per poterle fare oppure non c'è ancora un accordo politico. Ma io penso che il voto ai diciottenni che ha già avuto un passaggio alla Camera o al Senato possa tranquillamente essere... È all'ordine del giorno tra ieri e oggi. Sì, ma possa comunque essere chiuso tranquillamente prima del semestre bianco, sia la Camera che il Senato entrare in vigore. Poi le Camere diventano fotocopie, quindi c'è ancora bisogno del bicameralismo per... Però il problema è questo, se le due Camere hanno le stesse funzioni, cioè tutte e due danno la fiducia al Governo, almeno nell'elettorato devono essere i più simili possibili perché altrimenti noi incentiviamo l'idea... Anche con la base elettorale? Anche con la base elettorale perché altrimenti noi incentiviamo l'idea che favoriamo maggioranze diverse. Ora tutto lo sviluppo costituzionale... Ma non è questa la logica del bicameralismo? Però vede, questa logica è stata ritenuta disfunzionale, ma non oggi. Lei sa che all'inizio nel testo costituzionale la Camera durava 5 e il Senato 6. Questa cosa fu vista come irrazionale. Quindi nel 48, nel 53, scusi, nel 53 e nel 58 si fece lo scioglimento anticipato del Senato per farlo coincide con l'elezione della Camera e nel 63 si fece una riforma costituzionale per equiparare la scadenza 5-5. Per evitare il numero dei parlamentari? Sì. C'era una diversità di voti nelle due assemblee per cui le astensioni erano equiparate al voto contro il Senato. Si è fatta una riforma regolamentare perché al Senato fossero contate come la Camera. Cioè, il problema è questo. Se fanno le stesse cose che devono essere più simili, se invece le vogliamo divaricare nettamente, possono essere molto diverse. Però non è che si può essere incinti a metà. Diciamo, vabbè, gli facciamo dare la fiducia di tutto il governo, però poi noi incentiviamo un modo per cui le maggioranze vengono diverse. Questo è irrazionale. Certo. Insomma, le fate le riforme durante il semestre? Io spero che sia possibile, oltre a questa cosa, ragionare su un punto. Noi avevamo qui un Parlamento in seduto comune con mille membri. Arrotondiamo per farlo. E quindi cosa gli potevamo far fare? Solo da seggio elettorale. Se le Camere sommate hanno 600 membri, cioè meno di quello che la Camera da sola oggi, la cosa più normale è che molte cose le facciamo far fare. Quindi praticamente ne facciamo tre di Camere? No, facciamo il Parlamento in seduta comune per varie funzioni importanti. Per esempio, lei per primo ha presente che quando prima dei vertici europei il Presidente del Consiglio parla la Camera e il Senato fa esattamente lo stesso discorso. Quindi si dovrebbe fare il Parlamento in seduta comune? In seduta comune. Che senso ha che la fiducia sia data separatamente da Camera e il Senato? Lì per fortuna non si ripete più lo stesso discorso, si trasmette e basta. Anche quello si può fare in seduta comune. C'è molte cose... Sì, prego. Se si fanno queste cose, Mattarella resta? Se vede che si fa... Allora, io penso che questo potrebbe essere un clima tale che potrebbe convincere come accade appunto per Napolitano, anche Presidente Mattarella, che può essere uno scenario favorevole. Perché Napolitano mise come condizione fate le riforme e io resto. Esattamente. Quindi potremmo ritrovarci in una situazione analoga. Bene. Grazie come sempre per averci aiutato a Stefano, al Professor Stefano Ceccanti.